Cosa importa se è finita e cosa importa se ho la gola bruciata o no? Primo chilometro e sto coglione è già morto, guardalo là, come è Paul? Straviziata, stravissuta, senza tregua, una strendita giornata, sempre con il fuori, gola fino a sera, perché la sera non arriverà. Tre chilometri e mezzo, la mia faccia dice tutto, quel malazzo è dietro, la mia non sa camminare. Grazie. Cosa importa se è finita e cosa importa se era la mia vita o no? Ciò che conta che sia stata una fantastica giornata morbida. Oh, splendica giornata, che comincia sempre con un'alba di vita. Oh, splendica giornata, quante sensazioni, con quali motori? Poi alla fine ti travolgerà. Poi alla fine ti travolgerà. Cartogoamoni controllo, la galle con un'alba di vita. No dovishammo una prima toga più甩ina, che finica, finicaération di farina qua. eccoci qua colletto del forno dopo pranzo troppo troppa carne guardate la fine che hanno fatto i nostri eroi eccoli qua un ringraziamento speciale va a carlo evana per la carne grandissimi troppa troppa però buonissima siamo già di ritorno ci aspettano altri bei sette chilometri e mezzo e via siamo pienissimi grigliata super grazie ancora evan e carlo ultimi chilometri anzi ultimi metri siamo stanchi bellissimo dimmi un resoconto per quanto ritorneste su adesso per niente al mondo ma neanche 20.000 euro siamo arrivati 20.000 si dai non lo prendo